L'uomo esce di casa e saluta gli amici che dalla strada ricambiano. Sarebbe una scena normale se non fosse che quell'uomo, assieme al fratello e a una donna, a loro dipendente, da ieri pomeriggio è barricato in questo casolare di Costa di Rovigo e minaccia di far saltare tutto in aria se qualcuno dovesse avvicinarsi. I protagonisti di questa storia si chiamano Gianni e Giuseppe Lerin, hanno 54 e 49 anni. Sono agricoltori e qui li conoscono tutti perché più volte in passato hanno avuto problemi con la giustizia. Come persone sono buonissime perché se vai lì ti danno una casa di verdura gratis per dire... Il resto è tutto il cervello che non funziona. Il tutto è iniziato quando hanno costruito la strada perché tutto il loro terreno era questo. Gli hanno tolto e da loro lì è scattato qualcosa e sono in lotta prima con il comune eccetera. Quindi hanno fatto sempre qualche sciocchezza. Ieri pomeriggio è successo che Gianni Lerin, che si trovava agli arresti domiciliari per aver aggredito i carabinieri qualche mese fa, ha scagliato un'ascia contro l'operaio che lavorava il campo del vicino. Un campo che era dei proprietà dei Lerin, ai quali era stato però pignorato, pare, per una storia di debiti e multe non pagate. E quando sono arrivati i carabinieri, i due fratelli e la donna, loro dipendente, si sono barricati in casa. A nulla sono servite ore e ore di trattative. Le forze dell'ordine escludono il blitz e continuano a credere che il dialogo possa essere l'unica soluzione per questa storia che ricorda un film americano e invece viene dal profondo nord.